Grazie, nel calendario Deco Verde alla casellina numero 18 troviamo questo olio per risciacqui, una specie di collettorio della Pure Skin Food Organic Denta Oil, rimedio naturale di oli pulling per risciacqui, attrazione per una perfetta igiene orale, dice sul sito. Serve per avere i denti forti e i gengiri sane, combatte i batteri della caria, lascia una sensazione di freschezza con cumino e limone, la confezione è in vetro, è cruelty free naturalmente e come certificazioni PETIA cruelty free Austria Bio Garanty. E' in vendita sul sito di Ecco Verde, la confezione da 30 ml che è quella che vedete, che è considerata per loro una full size, quindi non una campioncina e neanche un mini taglia, costa 5,99€. E invece la confezione da 100 ml costa 19,89€. Sul sito dà varie indicazioni, adesso ve le leggo. L'olio biologico per i risciacqui del cavorare è un rimedio naturale per promuovere l'igiene della bocca in tutta sicurezza. Conosci la tecnica del risciacquo dentale con gli oli? Non ancora? Bene, allora io no. Bene, devi allora provare assolutamente questo prodotto. Ogni mattina a digiuno, prima di inserire qualsiasi altra cosa, basterà tenere in bocca un cucchiaino di questo olio, oh signore! Risciacquare e cercare di farlo passare bene in tutti gli spazi interdentali. E cioè sicuramente scutare, risciacquare con acqua calda e lavare i denti come al solito. Beh, scusami un attimo, ma i denti te li lavi prima di mangiare. Il risultato ti sorprenderà. Oltre a sentire la bocca fresca e pulita, i denti risulteranno brillanti e smacchiati. Inoltre, con l'uso regolare potrai notare diversi vantaggi. A differenza dello spazzolino classico, l'olio passa negli spazi interdentali, combattendo i batteri e riducendo così placche e tartare. Inoltre, risciacquando ogni giorno il cavo erale con l'olio, potrai notare nel tempo. Denti più bianchi, alito fresco, gengive sane, riduzione di placche e tartare, disintossicazione generale del corpo, miglioramento del sistema immunitario, gengive sane. Perché una disintossicazione generale del corpo aiuta a migliorare il sistema immunitario, semplice, durante il riposo, germi e batteri si depositano nella bocca. Se al mattino questi non vengono eliminati, vengono automaticamente ingeriti e nel tempo possono portare a diversi disturbi. Proprio per questo motivo è molto importante proteggere quotidianamente dopo il risveglio e ad un'occurata pulizia del cavo erale. Allora, io dubito che mi laverò i denti prima di fare colazione, comunque io credo che mi laverò i denti con il dentifricio e poi passerò a questo. Oppure mi laverò con questo senza il dentifricio, però non lo so, farò varie prove, poi vi dirò. Ciao a tutte ragazze!